Grazie a tutti e grazie all'organizzazione per avermi invitato qui a Palermo, devo dire che è un bel successo perché vedo veramente tanta gente. Va bene, siccome abbiamo i tempi stretti andremo un po' veloci ma anche cercheremo di rendere la crittografia un po' più semplice perché di solito è associata alla matematica, è matematica però oggi vedremo di capirla usando proprio anche le lettere come gli antichi, infatti la crittografia nasce fin dai tempi degli antichi greci e anche prima come vedremo. Due parole su di me, qui c'è una slide, io sostanzialmente mi occupo di informatica forense, cioè digital forensics in inglese, che sono quelle persone che fanno le indagini sui computer cellulari eccetera e quindi adottano vari sistemi di protezione del reperto originale per non farlo alterare perché tutti quanti non prenderebbero mai un coltello o una pistola su una scena del crimine a mani nude perché anche solo a vedere i telefilm ci hanno insegnato che quantomeno i guanti vanno utilizzati, mentre nell'informatica un computer lo usiamo tutti ma sì che accendiamo e smanettiamo, invece no, anche lì va preservata e quindi ci sono varie tecniche e varie cose. Qui un po' la mia storia in icone, dai primi vagiti sulla computer forensics sul mio blog, poi a pubblicazioni su riviste internazionali, ho fondato il più grande gruppo di computer forensics italiano, ogni tanto mi divertivo a fare le challenge, le sfide promosse dal dipartimento della difesa cybercrime americano, ho sviluppato alcuni script e anche attualmente sono il project manager di Cain che è la distribuzione Linux, una delle distribuzioni Linux più utilizzate al mondo, devo dire ho avuto download da tutti i paesi, compresa la Groenlandia, vuoi capire che cavolo ci fanno con Cain in Groenlandia, però e poi attualmente anche segretario e membro fondatore, vabbè ho seguito alcuni casi mediatici e tanta formazione. Ora, chiusa questa parentesi su di me, entriamo direttamente nel vivo. Crittografia è l'unione di parole greche, cryptos, che significa nascosto, e grafia scrittura. Immaginate che questa, perché nasce? Perché specialmente negli ambiti militari è chiaro che qualcuno non vorrebbe che il nemico conoscesse i propri piani, tant'è che per esempio, non ricordo male, forse in Grecia, uno dei sistemi più anche fantasiosi era quello di rappare a zero uno schiavo, scrivere il messaggio sulla testa e poi fargli crescere i capelli e mandarlo in missione. All'arrivo lo rappavano di nuovo e leggevano il messaggio. Questa è una prima forma più che di criptografia, di steganografia, che ancora oggi si utilizza anche in informatica, nascondendo messaggi criptati all'interno di immagini. Quindi pensate, se un gruppo terroristico vuole scambiarsi dei messaggi, uno potrebbe tranquillamente aprire un sito che parla di calcio e pubblicare le fotografie dei calciatori, però gli altri componenti della banda sanno che prelevando quelle fotografie e applicando una password possono tirar fuori dei messaggi. Ma chi potrebbe mai andare a indagare su una cosa del genere? Nessuno, perché che facciamo? Guardiamo le immagini di tutti i siti di tutto il mondo e proviamo a vedere se ci sono messaggi nascosti, tra l'altro con un sacco di falsi positivi. Più o meno andando indietro nel tempo abbiamo vari tipi di codifiche. L'Atabash, tempo degli ebrei, la Scitala degli spartani, poi Cesare, il disco cifrante di Alberti, Bigenere, che oggi vedremo, Vernam, Enigma, la famosa macchina Enigma dei nazisti, il Dess, l'RSI, l'idea, la S, poi oggi siamo alla crittografia quantistica, curvellitti, che è addirittura la crittografia omomorfica, che entriamo in ambiti di matematica tostissimi, ma lo scopo di questo non è capire dove siamo oggi, ma capire come ci siamo arrivati. Quindi partendo dall'inizio, io ho sempre pensato questo, forse erroneamente, ma se io voglio imparare qualcosa di solito vado a fare un corso, però mi sono sempre domandato ma il primo che ha inventato come sciare, come andare in bicicletta, come ha fatto? Quindi secondo me è utile imparare le origini. Per esempio il cifrario di Atabash, che adesso farebbe ridere i polli, però immaginate centinaia di anni fa, poteva essere valido, era semplicemente invertire l'alfabeto, alla lettera A mettevo la Z, la B la Y e così via. Qual era la debolezza? Qual è la debolezza di un tipo di cifratura del genere? Che poi, magari quando eravamo piccoli, alle elementari, le medie, si utilizzavano tanti trucchetti simili, alfabeti inventati per passarci dei messaggi. La debolezza è che chi conosce l'algoritmo conosce il modo di decifrarlo, quindi è molto debole. Poi arriviamo a Cesare, il cifrario di Cesare, qui già comincia a essere un po' più simpatico, cioè a ogni lettera associamo la lettera che sta a tre caratteri di distanza. Quindi partendo, per esempio, qui da 1, abbiamo che alla lettera A corrisponderà la D, cioè 1, 2, 3 e quindi mettiamo la D e così via. Quindi una parola come questa si può trasformare in questa. Chiaramente per tornare indietro dovremmo sottrarre tre posizioni. Anche questo è molto valido se arriva un messaggio del genere e nessuno lo capisce, però è anche vero che se conosciamo l'algoritmo è facilmente ripristinabile la frase iniziale. Qui invece arriviamo al cifrario di Alberti dove c'era un alfabeto che era mappato da un secondo alfabeto, che è un disco interno ruotante. Quindi se io ponevo per esempio la lettera G sulla A, di conseguenza tutte le altre lettere le dovevo sostituire con le corrispettive interne. Quindi qui diventa più complicato perché posso anche conoscere l'algoritmo, ma se non ho quel disco, se non so che lettera hanno posizionato, diventa difficile risalire al messaggio. Entriamo ora nei cifrari polialfabetici. Mi è molto piaciuto quello di Vigenere perché è un cifrario che poi fa capire molto bene il discorso di password, di chiave e tanti altri concetti che vedremo adesso. È del 1586 e per parecchi centinaia di anni è stato uno dei cifrari più difficili da decrittare, anche se poi in realtà è un cifrario di Cesare solo per ogni singola lettera. Cioè mentre Cesare aggiunge tre lettere, uno spostamento di tre lettere per ogni carattere del testo in chiaro, Vigenere sposta le lettere a seconda della lettera corrispondente della password. Ora lo vedremo, adesso sembra un po' complicato. Ad esempio, io ho la parola ciao ai lettori. Se la password è Pippo, perché chiaramente l'informatico deve scegliere Pippo come password, se no ha qualche problema proprio nel DNA, se abbiamo Pippo, vediamo che scriviamo più volte Pippo fino alla fine della frase da cifrare. Quindi che cosa succede? Che se la C è la lettera numero 3 e la P è la lettera 10, io faccio 3 più 10, 13. Qual è la lettera 13 nell'alfabeto? La R e quindi la lettera C sarà R e così via. Qua facciamo un esempio su un piccolo messaggio. Il testo in chiaro è A, B, C. La mia password, la chiave di cifratura è M, I, K e il testo cifrato diventerà M, J, M perché A è uguale a 0, vedete? B è uguale a 1 e C è uguale a 2. Quindi se io faccio A 0 più M, M è 12, viene 12, quindi 0 più 12 è 12 e quindi la A viene cifrata come M. La B è 1 più I che è 8 fa 9. Chi è la lettera 9? Qui la J e così via. Quindi abbiamo M, J, M e ho cifrato con questa chiave. Per decifrare basterà fare la sottrazione. Ora, perché è interessante questo? Perché già vi fa capire, molte volte noi ragioniamo meccanicamente, cioè specialmente chi è molto giovane, abbiamo un testo cifrato, abbiamo qualcosa decryptato, si pensa subito, ecco io sono il grande hacker, scarico tutti i tool che stanno su Parrot o altra roba, metto lì a decryptare, faccio brute forcing, cioè mi diverto a tentare di crackare qualcosa, ma in realtà magari non sappiamo nemmeno che cosa stiamo facendo realmente. Craccare è qualcosa di non meccanico, automatico, fatto da un softwareino. Dobbiamo capire cosa c'è alla base, per esempio, crackare è una cosa del genere, se vi arrivava M, J, M, uno che poi vedremo come invece l'intelligenza umana, prima dei computer, ha sviluppato sistemi di criptoanalisi per crackare un messaggio del genere senza usare i computer. Un ragazzo di oggi direbbe, sai che c'è? Io prendo MJM e gli faccio sparare a un computer tutte le possibili combinazioni di password fino a che non la trova. È un sistema che si chiama attacco a forza brutta, che però vedremo poi, ci sono anche tanti sistemi per bloccare la velocità di questo attacco e quindi noi dobbiamo capire realmente cosa c'è sotto il cofano della criptografia, non pensare semplicemente, criptografiamo e non sappiamo manco di che cosa stiamo parlando. E partendo da esempi così antichi, capiamo forse meglio. Vabbè, qui vi fa vedere come funziona. Se da un'addizione fosse venuto un numero maggiore di 26, basta effettuare la sottrazione di 26, perché può capitare che se addizioniamo le due lettere invece che 26, che è il numero massimo di carattere dell'alfabeto, ci viene 32, ma la 32esima lettera non esiste. Però basta fare meno 26 e torniamo alla lettera originale. E così via. Vabbè, sono dettagli. Qui è anche un altro sistema che vi permette di applicare una formula, lo trovate anche su Wikipedia, ma in realtà il concetto è sempre quello. Aggiungo e poi sottrago per decifrare. All'epoca si sviluppò anche la tabella di Vigenere. Lui mise un alfabeto così e un alfabeto così e grazie a questa tabella un militare, qualcuno, poteva velocemente decifrare i messaggi se aveva la parola chiave. Ad esempio, se il testo in chiaro è Guerrasia e la chiave è Ciao, perché dopo Pippo c'è Pluto, però anche Ciao funziona, il testo cifrato diventa I-C-F-T-I-S-W-C. Bene, come facciamo? Io sono il militare che riceve questo testo. Conosco la password perché questa si chiama cifratura simmetrica, ossia A e B, o i famosi Bob ed Alice, Bob e Alice, che sono usati in tutti i testi di informatica, che poi sanno per Alice A e Bob B, A e B si scambiano la password e tutte e due sanno che la password è Ciao. Qual è il problema di questo tipo di crittografia? È che se la password viene intercettata, la sanno tutti e quindi i messaggi possono essere letti da tutti. Ma vediamo come funzionava questa tabella. Io ho la lettera, ho la password, vado alla C e, vero, alla lettera I che corrisponde la G e quindi comincio a scrivere G. Poi ho la I, la I alla lettera C di ICE che corrisponde la U e vedete che comincio a creare GUE e così via. Questo è un sistema veloce senza fare i conti perché io volendo potrei anche non utilizzare questa tabella ma fare il sistema che vi ho fatto vedere prima, cioè metto in colonna e faccio le sottrazioni e le addizioni e così via. E quindi questo è un sistema, come vedete, molto semplice, però comincia a farvi capire il rapporto che c'è tra password e testo cifrato, che ora vedremo più che la password si distacca dal concetto di cifratura perché in realtà la password servirà solo a generare la chiave di cifratura. Molti scambiano la password con la chiave, sono due cose un po' diverse. Ed entriamo anche, per capire questo, nel concetto di HASH che è stato citato prima da Mondello per il discorso delle blockchain, anzi io qui ho un piccolo simulatore di blockchain quindi magari ve la faccio vedere al volo che cos'è quella. Però prima di parlare di blockchain dobbiamo spiegare cos'è l'HASH per chi non lo sa. L'HASH è importante in crittografia perché è qualcosa che usiamo in modo massiccio, perché è una funzione spettacolare, matematica, che genera sempre un codice di lunghezza fissa per qualsiasi oggetto li mettiamo. Quindi io posso, se ho un HASH che genera codici di 1, 2, 3, 4, 6 cifre, io lì posso fare l'HASH di Pippo e avrò un codice di 6 cifre, posso fare anche l'HASH di tutta l'enciclopedia britannica e comunque uscirà un codice di 6 cifre che sarà sempre diverso. Basterà cambiare una virgola, una lettera, un pixel, un bit di qualsiasi oggetto che noi mettiamo che l'HASH cambia. Che cosa vi fa pensare questo? Che questa funzione matematica, attenzione, non è una funzione che serve a cifrare un messaggio perché chiaramente se io butto dentro l'estate sta finendo e viene fuori DFF872, non è che da DFF872 ritorno, ricavo la frase. No, immaginate che l'HASH è come se fosse una specie di motorizzazione che assegna una targa univoca al veicolo. Quindi se io ho un hard disk o un'immagine o un file e li applico una funzione di HASH mi viene fuori una targa. Se l'HASH è l'MD5 la targa sarà lunga 32 caratteri alfanumerici. Se lo SHA-1 sarà lunga caratteri alfanumerici e così via, perché ci sono vari algoritmi. Questo perché è importante? Immaginate per esempio nel lavoro che faccio io a Digital Forensics, se io devo acquisire l'hard disk di Mario, quando acquisisco l'hard disk e faccio una copia, come posso garantire che la mia copia è identica all'originale. Mica posso stampare tutto un hard disk e poi fare un controllo a occhio, byte per byte, se ci sono tutti i byte uguali. Applico la funzione di HASH all'hard disk di Mario, applico la funzione di HASH alla copia che ho fatto io, se i codici che escono sono uguali, vuol dire che la mia copia è identica al bit all'hard disk originale. Questo che cosa significa? Che io, lavorando sulla copia, è come se lavorassi sull'originale. Quindi non ho alterato, e se qualcuno maliziosamente volesse alterare qualcosa, applicando l'HASH vedremo che non risulta. Ecco perché nelle blockchain è importante. Quindi ora vi faccio vedere, visto che l'abbiamo introdotto e visto che prima vi ha parlato della blockchain, vi faccio vedere che cosa fisicamente, perché uno degli scopi di questo talk è proprio far vedere fisicamente, non solo teoricamente, che cos'è. Chiaramente questa è una simulazione semplificata di una blockchain, è molto più complessa. Facciamo finta che noi abbiamo, come ha detto prima Mondello, dei blocchi. Questi blocchi possono essere dei messaggi, possono essere delle transazioni, possono essere soldi, quello che vogliamo. A noi non interessa cosa c'è nel blocco. Il mio blocco, il primo blocco sarà AAA, BBB il secondo blocco, il terzo blocco CCC e il quarto blocco DDD. Ora noi abbiamo questi quattro contenuti che saranno inseriti in una catena, in una catena che li legherà tra loro e vediamo che cosa esce. Allora, vediamo che il primo blocco, il blocco 0, che ha un indice di 0, purtroppo essendo il primo, che viene chiamato il blocco generatore, ha un contenuto random X e dice ciao sono il contenuto del blocco di generazione e genera un hash. Questa roba qui è l'hash di questa frase, ciao sono il contenuto del blocco di generazione. Andiamo al secondo blocco, come vedete c'è un timestamp anche, cioè è stato generato alle 10, 24 e 34 secondi del 28 ottobre. Lui contiene l'hash del blocco precedente e l'hash suo, cioè AAA genera questo hash. Il blocco 2, che era BBB, genera quest'altro hash, però contiene al suo interno l'hash di quello precedente, cioè di AAA e così via. Questo che significa? Che se io voglio maliziosamente modificare uno di questi qui, è un casino, perché ho tutta la catena che tiene traccia del codice precedente e quindi non posso arbitrariamente cambiare il timestamp. Cambiando BBB, se ci mettessi maliziosamente, entro con un editor o con uno sniffer, qualcosa e cambio BBB in BB1, cambierà l'hash di BB1, ma se cambia l'hash di BB1, poi quando vado in C, che conserva l'hash di BBB, non matchano, saranno diversi e quindi ho un'alterazione tracciabile della blockchain. Chiaramente la blockchain reale non è così semplice, contiene al suo interno altri campi che servono ai miners a verificare che la transazione sia corretta. È una specie di gioco a premi. Se tu hai una potenza di calcolo molto forte, riesci a superare l'ostacolo che viene inserito all'interno della blockchain. Per esempio, trovare un hash che inizi con 4-0, un doppio hash che inizi con 4-0, allora che succede? Che si mettono lì con le macchine a farli lavorare, infatti il mining ha avuto anche problemi che a un certo punto è diventato sconveniente in termini proprio di elettricità, cioè pensate, il consumo elettrico, perché andare a lavorare su una serie di dati e far sì che io riesca a tirar fuori un hash particolare che inizi con 4-0 facendo macinare milioni di combinazioni alla macchina, significa tenere le macchine a lavorare H24 ore, ore, giorni, mesi a volte e hai un consumo elettrico pazzesco e poi devi arrivare per primo, perché nel frattempo ci arriva qualcun altro, i soldi perché i miners vengono pagati in bitcoin nel momento in cui arrivano per primi. Quindi immaginate tutto sto macello è contenuto nella blockchain, ma quello che vi ho fatto vedere è lo scheletro della blockchain, cioè far capire che se io vado ad alterare CCC e lo cambio in CCCB, tutti gli altri che contengono invece l'hash precedente diranno ma come mai ora non coincidono i due hash? E se ancora volete vedere meglio per chi non conosce l'hash... e viene 5C bla bla bla, se io invece faccio di AAA, metto al posto di AAA, AA1, come vedete non so se si vede, i due hash sono cambiati, cioè l'hash di AAA inizia con 5C e arriva a 8E, l'hash di AAA1 cambia. Questo ci dà l'allarme, ci fa capire che è successo qualcosa. Questo era doveroso dirlo anche per completezza nei riguardi di quello che si è detto prima sulla blockchain e si era anche citato l'hash. Ma andiamo avanti nel nostro viaggio nella critografia. Tutti i database dove voi siete iscritti, facebook, forum, blog eccetera eccetera, se non sono fatti proprio da dei caproni o gente veramente assurda, dovrebbero conservare la vostra password hashata. Cioè, se la mia password è AAA, non devono conservare nel database AAA, ma l'hash di AAA. Perché se mi rubano il database, come gestore mi rubano il database, io non devo poter vedere la password in chiaro. Vedrò un hash e siccome abbiamo detto che dall'hash non si torna indietro perché è una funzione univoca, io se ho un hash che è ABC123, io non so chi l'ha generato e da lì non posso tornare indietro. Quindi non potendo tornare indietro, io anche se ho rubato il database del blog, del forum o del servizio al quale sono iscritto, sono iscritti gli utenti, non posso conoscere il loro password. Attenzione, è proprio vero questo? Qui entriamo, come vedete, siamo partiti a vigenere e piano piano ci avviciniamo proprio al mondo reale. Che succede? Succede che esistono le collisioni. Sostanzialmente noi abbiamo che l'hash, per esempio l'MD5, è una funzione a 128 bit. Significa che ci sono due alla 128esima combinazioni diverse. È un numero enorme, numero grandissimo. Però è anche vero che l'universo è più grande. Quindi abbiamo una mappatura, una mappatura dell'universo su un piccolo mondo di due alla 128esima che è grande per noi, ma è piccolo rispetto a tutte le combinazioni. Che cosa voglio dire? Cioè, questo si chiama il problema della colombaia. Ossia, se io ho dieci gabbiette dentro, ci metto dieci colombi. Se arriva l'undicesimo colombo, dove lo metto? Lo metto dentro una gabbietta dove c'è un altro colombo. Quindi avremo due colombi che condividono un appartamento, chiamiamolo così. Che significa nel mondo dell'hash, che se finiscono i due alla 128esima posti a disposizione, cioè ho generato due alla 128esima codici diversi tra loro, potrebbe esserci l'ennesima, la 129esima parola, chiamiamola così impropriamente, che deve essere codificata. E quindi questa, anche se sarà diversa da tutte quelle che abbiamo codificato, otterrà un hash uguale, perché i due colombi saranno nella stessa gabbietta. Allora che significa? Che io potrei creare una password difficilissima, boh, zuperellone, 71, chiocciola, asterisco, eccetera. E mi genera un hash e dico mi sento al sicuro. Ma può anche essere che se io do in pasto, ho rubato il database, do in pasto l'hash di questa password difficilissima alle rainbow table, a dei servizi online, che ci sono le crackstation online, loro che fanno possono andare a dire attenzione, questo hash è generato da, mica vi dicono dalla vostra password perché è di fantasia, impossibile che qualcuno... da magari Pippo, che guarda caso nel mondo genera lo stesso hash. Quindi io che faccio? Entro nel forum e metto username Nanni, password Pippo, anche se la mia password era zuzurellone 70... e siccome Pippo genera lo stesso hash di zuzurellone 70, io entro e le ho fregati. Quindi questo è il problema della collisione. E la collisione, chiaramente, parliamo in via teorica, perché per quanto... ecco perché si dovrebbero usare due hash, si dovrebbero usare hash più... algoritmi più robusti, tipo lo SHA-256, lo SHA-512, eccetera. Poi ci sono anche dei trucchi. Quindi, questo l'abbiamo detto, per esempio, si usa il sale. Non è che siamo passati direttamente a un cuoco in famiglia o a Masterchef, ma il sale che cos'è? Cioè noi facciamo un hash di una password e gli aggiungiamo un qualcosa in più per cambiarla. Questo non serve tanto a risolvere il problema della collisione, perché quello esisterà sempre. L'unico modo per risolvere il problema della collisione è fare due hash. E il software dovrebbe controllare due hash con due algoritmi diversi, è chiaro, non due hash uguali a MD5 e MD5, non ha senso. Perché se Pippo collide con zuzurellone 70 in MD5, magari in SHA-1 non collide. Allora, se facessimo un controllo incrociato, che quando io do la password, mi calco alla MD5 e lo SHA-1 e confronta nel database i due campi, uno coinciderà, mazza che fortuna, per usare un'altra parola, e l'altro no, perché se collide con uno non collide con l'altro, perché sfrutta algoritmi diversi. Quindi che serve il sale? Il sale serve non tanto per il problema della collisione, anche perché per la collisione comunque bisogna avere dei grossi database di collisioni, ma per il brute force attack. Cioè io provo ad attaccare un attacco a dizionario, oppure, per esempio, pippo o mare, montagna, sono parole che fanno parte di un dizionario. Io volendo potrei attaccare un'applicazione, un database, sparando tantissime parole presenti nel dizionario, se la parola è pippo o mare, il dizionario ce l'ha, la trova entro. Ma se io, io utente scemo, ho scelto pippo come password, ma il gestore me la fa salare, cioè automaticamente aggiunge in coda la mia stupidissima password, un oggetto, l'hash di pippo più quell'oggetto è chiaramente qualcosa che non è l'hash di pippo. E quindi avrei la possibilità di complicare la password e l'hash. Chiaramente anche qua nella scelta del sale bisogna avere intelligenza. Sarebbe stupidissimo usare come sale, per esempio, la password stessa dell'utente, perché una volta che ho rubato il database, conosco la password, l'email dell'utente, conosco la sua email, potrei creare io un software che sala tutte le password con l'email degli utenti e ricrearmi gli hash. Ci avviciniamo e quindi questo è da doveroso capire perché come funzionano attualmente le cose e quali sono stati anche i problemi di alcuni leak che ci sono stati, tipo Dropbox, eccetera, eccetera. E poi questi signori sono sempre simpaticissimi, hanno il leak nel 2012 e ti avvisano nel 2016 o nel 2017. Nel frattempo magari ecco perché conviene avere password diverse per ogni servizio. Allora il problema qual è della collisione e degli attacchi addizionari, eccetera, è il fatto che dobbiamo utilizzare algoritmi che rallentano, rallentano il check. Cioè se io ho un algoritmo che riesce a generare centomila password, magari vediamo, ecco, se possiamo generare centomila password al minuto, possiamo generare centomila chiavi al minuto. Allora che succede? Se io invece, quindi in un minuto ho generato centomila chiavi. Se io l'algoritmo gli dico, attenzione, quando uno mi mette la password, invece di calcolare subito la chiave, gli fai fare tot iterazioni a perdere tempo, io potrei ridurre il tempo di generazione magari a una password al secondo. Quindi da farne centomila al minuto ne faccio sessanta al minuto. Immaginate il vostro computer che vi dà tempo stimato, un miliardo di anni, per provare tutte le combinazioni. Al che uno ci rinuncia e dice ma questo, mi è venuto di dirvelo perché stavo facendo un certo discorso, ma per capire meglio questo dobbiamo tornare qui. Ecco che ci entriamo nel discorso della chiave e della password. La password praticamente non è la chiave, lo vedremo anche con degli esempi pratici. La password può essere data in pasto a una funzione che si chiama key derivation function, cioè funzione di derivazione della chiave, che dalla password pippo genera una chiave e con questa chiave io vado a cifrare il testo. Vi ricordate prima che noi abbiamo detto che io usavo la password pippo per cifrare quella frase, ciao a tutti i lettori, dove avevo messo pippo, 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 eccetera. Ora immaginate che non funzioni così ma che io con pippo creo una chiave che esce un'altra parola, per esempio accc e con accc cifro il messaggio. Quindi la password mi crea la chiave e la chiave mi cifra il testo. La funzione di key derivation, dove sto che qua ogni tanto impazzisce, può servire a rallentare. Qui ho fatto per esempio un esempio, se una volta che mettiamo la password la chiave di cifratura viene generata calcolando 500.000 volte l'hash della stessa più un salt, vuol dire che il programma prima di comunicarci se abbiamo beccato la password o meno ci metterà un tempo x per elaborare la chiave così da rallentare il prossimo tentativo. E qui faccio per esempio vedere che se io lancio questo programmino che trovate sempre in github.com slash nannibcrypto dove ho messo il reposito dei programmini che vedremo oggi, compreso quello da blockchain, poi vedremo vigenere eccetera, vi fa vedere come il tempo iniziale 19.02.55, il tempo finale 19.02.56 ci ha messo praticamente un secondo e 59, cioè quasi due secondi per generare la chiave finale. Perché gli ho fatto fare un ciclo di 500.000 iterazioni. Due secondi che sembrano pochi, nell'ambito dei computer sono tantissimi. Quindi ho rallentato di due secondi perché se non gli facevo fare il ciclo, calcolare l'hash di quella roba lì, il computer ci mette un niente. Invece io facendogli fare il ciclo l'ho rallentato e quindi la key di F funziona bene. Quindi scegliere una password è importante per infastidire gli attacchi di brute force addizionario. Ma attenzione, dobbiamo anche vedere, oltre che scegliere la password bella tosta, chi gestisce le nostre password come le cripta se ha utilizzato algoritmi lenti o algoritmi veloci. Perché avere una password bella difficile da indovinare ma poi l'algoritmo è velocissimo a generare le chiavi, io con un computer, perché qua stiamo facendo battaglia di computer contro computer, con un computer posso immettere milionate di tentativi e in breve tempo potrei indovinarlo. Invece se rallentiamo, quindi si usano degli algoritmi di rallentamento, diamo fastidio a chi tenta di scavalcare queste protezioni. Ora, queste le due massime che possono riassumere un po' tutto il senso della criptografia, perché in un mondo ideale dove se fossimo tutti buoni, tutti onesti, la criptografia magari non sarebbe mai nata, però purtroppo dobbiamo difendere, ci sono armi, la criptografia è un'arma di difesa, può anche essere un'arma di attacco. Però che diceva Kershaw, questo è famosissimo, il principio di Kershaw, la sicurezza è un criptosistema, non deve dipendere dalla segretezza dell'algoritmo usato, ma dalla segretezza della chiave. E questo è l'importante, cioè noi non dobbiamo dire guarda ho inventato un algoritmo pazzesco, cioè facendo sta roba qui nessuno mai potrà entrare, ed è vero, si può fare, però il problema che uno si deve domandare è se un giorno l'algoritmo viene scoperto, butti all'aria milioni di comunicazioni, quindi noi paradossalmente una buona criptografia dovrebbe essere fatta in open source, algoritmo aperto. Chi se ne frega che l'algoritmo è aperto? Il problema è che se l'algoritmo cifra bene, per esempio PGP è open source, tanti algoritmi sono open source, anche l'RSA si sa come funziona, Vigenere è open source, lo sappiamo, l'abbiamo appena visto come funziona. Il problema è, ma se io ti spiego come funziona Vigenere e poi ti do una frase criptata con Vigenere, tu la sai decriptare? Anche se conosci l'algoritmo? No, perché se non hai quella cavolo di chiave non la sai decriptare, quindi noi dobbiamo badare a tenere le chiavi in tasca, perché poi i problemi più seri di tutta la security, quando sentite parlare di hacker, gente che buca siti istituzionali, secondo me e anche secondo quello che si sente in giro, la gran parte delle volte è gente che sfrutta bachi umani, c'è un acronimo in inglese, si dice problem exist between chair and keyboard, cioè il problema esiste tra la sedia e la tastiera, chi sta tra la sedia e la tastiera? L'uomo, quindi se noi lasciamo le password in giro, scegliamo password deboli, eccetera eccetera eccetera, ecco che l'algoritmo può essere l'algoritmo più cazzuto del mondo, ma noi ci siamo, ho preso la porta blindata più forte del mondo, mi hanno detto questa anche se ci butti la bomba atomica, non va giù e poi lascio le chiavi appese fuori, quindi qual è il problema? L'algoritmo o il fatto della chiave? Dobbiamo usare e poi nel 49 Shannon dice il nemico conosce il sistema, noi dobbiamo sempre pensare che il nemico può conoscere il sistema, quindi non dobbiamo preoccuparci di fare algoritmi chiusi, nascosti, dobbiamo preoccuparci che lo conoscesse pure il sistema, va bene e adesso che lo conosci, se non hai la chiave non entri. Ora vediamo come funziona prima di passare al discorso alla criptoanalisi fatta col cervello e non con la macchina, che è molto interessante. Allora, vogliamo criptare, io metto C, mettiamo un testo da criptare, ciao a tutti, e inserisco una chiave di criptazione, per esempio ZXC. Ecco il nostro testo criptato, che è questa roba qua incomprensibile. Faccio l'inverso, faccio decriptare, inserisco il testo che è quello incomprensibile. Ora, se non ho la chiave, non l'ho decripto, se ci metto ZXC, ecco che viene ciao a tutti. Ora, se guardiamo il codice sorgente di questo software, anzitutto per i puristi di Python, programmatori vari, quando, se qualcuno andrà a guardare i miei codici, inorridirà perché non sono un guru del Python, ho scritto perché mi serviva a scrivere in maniera didattica, poi magari chi è bravo potrebbe fare dei software molto più ottimizzati, qui magari fa schifo a livello di codice, però funziona. Sostanzialmente noi vediamo che cosa fa questo software, quando criptiamo non fa altro che, come vedete, aggiungere il carattere del nostro testo al carattere della chiave, fa quelle famose addizioni e sottrazioni che abbiamo visto prima e crea il testo criptato. Cosa fa invece in decriptazione? Fa l'inverso, va a fare una sottrazione. Vedete, qui c'è la sottrazione e qui invece c'è l'addizione. Ora, l'addizione sta qua, scusate. Allora, adesso vediamo invece la differenza con, se io a questa cosa qui ci aggiungo lo stretched, che è quello che vi ho fatto vedere prima, come si chiama? Ok. Allora, testo da criptare, faccio C, metto un testo da criptare, com'era? Ciao a tutti. E metto la ZXC. Guardate quanto tempo c'ha messo, avete notato che ci ha messo un po' di tempo? Prima è stato immediato. E perché ci ha messo un po' di tempo? Perché io gli ho fatto questo scherzetto qua. Display. Anzitutto, un'altra cosa che dovevate notare, che la criptazione è diversa. Come vedete, un vigenere puro, cioè quello che avrebbero usato nel 1586, avrebbe generato, scusa, con ZXC, avrebbe generato BFCN. FFCN, invece, con questo che ho moddato io, lo stretched, come vedete, con ZXC è uscito HC4, un'altra roba. Uno dice, ma scusa, ma non stiamo usando sempre vigenere. Ma andiamo a vedere che cosa gli ho messo dentro. Gli ho messo il sale, ho messo l'ash, quindi, in sostanza, io ho fatto un ciclo di 500.000 passaggi di hash della password più il sale. Dopodiché ho usato questo hash come chiave di criptazione, quindi non è più ZXC. La chiave non è più ZXC. è la password che ha generato una chiave che io non conosco. Vogliamo fare una controprova? Se la chiave fosse ZXC, io, con un vigenere normale, metto decriptare, metto il testo da decriptare, metto ZXC, ZXC, non funziona, non funziona di tutto, è da errore. Perché? Perché, in realtà, quella stringa che ho generato con lo stretched è, ciao a tutti, è stato criptato non con ZXC, ma con una chiave che è stata derivata da ZXC, usando il sale e usando l'ash. E, infatti, lo posso decriptare solo se io metto il testo... no, scusate, è qui, cavolo, sta su... se no, qui, usciamo pazzi, ho decriptato, vediamo se ce l'ho... ecco, questa qui, inserisci ZXC, vedete il tempo, è ora decriptato. Qui, con vigenere strecce, dell'ha decriptato con ZXC, perché? Perché ZXC, dato a questo programma, rigenera la chiave che noi non conosciamo. Voi, state capendo la differenza tra quello di prima che la password e la chiave coincidono, cioè ZXC, sia password, sia chiave. In questo caso, invece, ZXC genera una chiave, ma noi non la conosciamo, nemmeno io, proprietario, non conosco la chiave. e questo è ciò che c'è alla base di TrueCrypt, di tutti i programmi di criptazione, ora mi riserve quello mobile, di programmi di criptazione, cioè la password è semplicemente una infrastruttura, ma adesso avviciniamoci alla parte forse un po' più divertente, cioè divertente, che fa riflettere, per farvi capire che significa la criptografia, il cracking, la criptoanalisi, non è una roba da ragazzini, schiacciamo un tasto, buttiamo lì la roba, ma vediamo come invece dietro ci sono menti, persone, che sono state dei grandi, perché stiamo parlando di 1800, pensate che uno dei cifrari inattaccabili, ancora oggi, non esiste modo per attaccarlo, è di Vernam, che è del, te lo ricordi? 1.000? Eh, primi del 6, 1915, cosa già, l'avevo scritto all'inizio del slide, chiaramente, non mi ricordo, Vernam è un vigenere dove la chiave non è pippo, ciao, è lunga quanto tutto il testo, e voi direte, che cosa cambia? E ora lo vedremo, che cosa cambia, Vernam ha fatto un vigenere, cioè se la frase è ciao a tutti, la password, la chiave, è una parola, o una sequenza di carattere, lunga quanto ciao a tutti, quindi ogni lettera viene codificata con una lettera diversa, cosa cambia dal vigenere normale? che se io ho la frase ciao a tutti e la chiave è abc, abc si ripete, abc per codificare i primi tre caratteri di ciao a tutti, abc, abc, vediamo se, perché purtroppo bisogna avere tutto sott'occhio, ecco, vedete? Ciao ai lettori, pippo, pippo, pip, ripetiamo, 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 se io usassi vernam, avrei ciao ai lettori, userei una parola che è pippo, ama, i cani, cioè, non lo so, mi invento una frase lunghissima, dove ogni lettera di ciao ai lettori viene codificata con una lettera diversa della password, che cosa cambia invece di usare vernam e vigenere, perché uno dice, vabbè, ma perché quello è più sicuro di vigenere, perché, perché vedremo che un tale casin, un generale prussiano, quindi stiamo parlando di sempre, ha cominciato a notare qualcosa, ecco, l'analisi delle frequenze, ossia, anzitutto, noi, se ripetiamo la parola pippo, 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 sotto la frase da decryptare, vuol dire che ogni, p, p, ogni cinque lettere, si ripete la codifica con la p, di pippo, perché si ripete la password, in più dobbiamo pensare che nelle lingue, nelle lingue, per esempio in italiano, questa, c'è una statistica, che esiste da sempre, delle lettere più, più utilizzate, nel linguaggio comune, nello scritto, nel parlare, la lettera E all'11,79%, la A, la I, fino a scendere alla Z, voi non ci credete, ma usate poche Z, quindi, allora, che succede? Già, senza arrivare a Kasinski, già senza arrivare a Kasinski, facciamo un piccolo esempio di come, solo utilizzando, le frequenze, noi possiamo arrivare, a capire quale potrebbe essere una decifrazione di un messaggio. Io spero che questo esempio duri cinque minuti, perché il tempo che ti rimane. Vabbè, dai, ora, va bene, per esempio, se ho una frase, o di, non so, questa è stata cifrata con Cesare, non so che, qual è l'algoritmo, cerco di capirlo, facciamo finta che io non conosca Cesare, che ha spostato solo i tre lettere, mi calcolo la frequenza in questa frase criptata delle varie lettere, vedo che la D appare cinque volte su dodici, la F2 su dodici, la S2 su dodici, eccetera, quindi ho una classifica dove ho D, F, S, O, U, P, che sono le lettere più frequenti nel messaggio cifrato e le vado a paragonare con le lettere più frequenti nel linguaggio parlato, quindi, se la D è la più frequente nel cifrato, nel linguaggio parlato dovrebbe corrispondere, in via teorica, con la E, e allora che faccio? Sostituisco alla D la E, alla F la A, e mi viene sta frase, che non ha nessun senso, a questo punto provo con altre lettere candidate, sempre seguendo questo grafico, sostituisco con A, C, L, N, I, e mi viene la C, E, N, A, C, E, I, non ha nessun senso, però, ci avviciniamo, potremmo pensare che se tolgo queste parole che non hanno senso, potrebbe essere la capra campa, il messaggio assume un significato intellegibile, immaginate, questa è una prima criptoanalisi fatta solo mappando le frequenze del messaggio cifrato con le frequenze del linguaggio comune, questo è il metodo Kaczynski, ora, siccome ve lo voglio far vedere, cercherò di essere velocissimo, sempre usando il vigenere normale, non quello strecciato, abbiamo che se metto il mondo del mare piace a tutti, il mondo del cielo o non a tutti, ho dovuto usare una frase lunga per dare un po' di senso, e la password è ciao, mi verrà questa stringona criptata, ora, chi riesce a leggere, se mi metto a leggere io perdiamo tempo, devo andare veloce, e sostanzialmente lui che fa, prende la stringa, la divide in bigrammi, cioè in pezzi da due, dopodiché dice, quante volte appare alla posizione 14 e alla posizione 40, cioè sta qui e sta qui, 40 meno 14 fa 26 e così via, trova i bigrammi comuni che si ripetono, trova i multipli eccetera, eccetera, diciamo che 2 è quello più comune, ma 2 è una password troppo scema, allora scegliamo 4, arriviamo a 4, che facciamo? Prendiamo sempre la frasona criptata e la dividiamo in gruppi da 4, poi cominciamo a prendere la prima lettera di ogni gruppo da 4 e creiamo questa stringa, poi la seconda lettera di ogni gruppo da 4 e creiamo questa stringa, la terza e così via, perché? Perché alla fine lui userà un sistema praticamente di Cesare applicato a ogni singola lettera, lui dice io mi creo una frase fatta da tutte le prime lettere, da tutte le prime lettere dei gruppi da 4, perché se io ho usato la password ciao, arrivo velocissimo, se ho usato la password ciao, c-i-a-o, vuol dire che questa prima lettera è stata codificata con la c, questa prima lettera dell'altro gruppo sempre con la c, questa prima lettera dell'altro gruppo sempre con la c, perché c-a-o, ciao, 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 ecco perché Vernam è più sicuro, perché Vernam non avreste questa ripetizione di frequenza, a questo punto faccio tutto un'analisi con le lettere più frequenti, lancio questo programmino che trovate là e vedete che per esempio usando il primo blocco questo creato con le prime lettere e analizzando le frequenze, cioè quante volte qual è quello che ha punteggio maggiore, e la lettera che ha punteggio maggiore che matchano le frequenze del criptato con quelle reali, per esempio qui è la c che ha un punteggio di 7 e per gli altri gruppi abbiamo abbiamo e vabbè è impazzito, abbiamo la c, la i e così via, quindi che succede che abbiamo questi candidati c, c, i, a, d, o le combinazioni tra queste lettere sono 1 per 2 per 1 per 2 per 4 per 1, per 2, per 1, per... che cosa fa? 4 quindi io ho 4 possibili password se non avessi usato questa analisi delle frequenze io per provarle tutte ed ecco che là esce scusate il termine il bimbo minchia cioè quello che si mette lì e fa brute force io avrei dovuto usare 26 alla quarta combinazione cioè dovrei prendere 4 combinazioni usando tutte le 26 lettere alfabeto che genera 456.976 possibili password è un metodo bovino invece questo è un metodo intelligente perché io ho tirato fuori da quasi 500.000 possibili password solo 4 e con 4 posso anche tentarci io manualmente poi le guardo c, c, ad, c, c, a, o, c, a, o, ciao ma guarda un po' l'unica che ha un senso vuoi vedere che quella la provo pam e becco la decritazione io spero di aver fatto capire in questa sessione cos'è la crittografia la base proprio il motore poi è chiaro che se si vuole approfondire c'è una matematica pazzesca spero che abbiate capito la differenza tra password e chiave e questo vi può far muovere nel cervello l'idea che molte volte per attaccare un codice crittografato non bisogna solo attaccare la password si potrebbe anche tentare di attaccare la chiave e infatti in un mio esperimento che trovate anche il link nelle slide su TrueCrypt io dimostro come riesco a craccare un volume TrueCrypt prendendo non la password che non la conosco ma in memoria di un computer con un TrueCrypt montato rimane conservata la chiave allora uno dice ma io quando lancio TrueCrypt mi dice vuoi decryptare il volume mi chiede una password non una chiave se incollo la chiave che ho preso dalla memoria non funziona allora come devo fare c'è tutto un sistema dove vi faccio vedere che utilizzando una password di un header noto e imponendo al programma di prendersi la chiave non dalla decryptazione della testa ma da un file esterno dove ho inserito la chiave che gli ho dampato io passo al programma non la password ma la sua chiave di decryptazione e questo vi dimostra che la password non decrypta una cippa la password serve solo a generare la chiave che poi decrypta ho fatto veramente una corsa grazie a tutti è un po' tosse spero di essere stato chiaro